Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti quest'oggi sul sito della EA Sports direttamente da FIFA 14, anche se io non ce l'ho Allora vi spiego meglio, praticamente non sapevo che cosa fare, quindi girovagando un po' per il computer mi sono detto, ma il mio vecchio Ultimate Team di FIFA 13, che avevo la serie A, il team della serie A con parecchi, molti, anzi diciamo quasi tutti, giocatori della Juventus, in difesa soprattutto avevo Bonucci, Lichsteiner e De Sceglie, vabbè, tifoso della Juve, ovviamente ho cercato di fare una serie A più juventina ma avevo anche altri grandi campioni, avevo deciso che tanto su Ultimate Team non ci avrei più giocato perché al massimo avrei preso, quando sarebbe uscito, FIFA 14 avevo messo tutti in vendita i giocatori, l'altro giorno sono entrato per scazzata sono arrivato tipo a più di 20.000 crediti, ma non è questo il problema perché allora, ho detto, io avevo anche altri giocatori che non erano stati venduti tipo De Santi, Sogbon, eccetera, eccetera che fine hanno fatto? allora, sono ritornato sul sito della EA Sports, sono entrato e praticamente mi è apparsa una schermata classica che mi era già apparsa in FIFA 13 quando mi sono loggato appunto al sito qui stiamo parlando invece di FIFA 14 infatti mi ha detto che potevo importare direttamente il mio team il mio, praticamente il mio Ultimate Team, la mia Sdroventus, così l'avevo chiamata e quindi metterla sull'Ultimate Team, Ultimate Team del 2014 ho messo conferma e mi ha fatto aprire un pacchetto composto da un tritello di giocatori che sono praticamente il primo pacchetto che di solito si apre quando viene creata la squadra e io allora ho detto, fermi, fermiamoci, voglio farci un video perché diciamo che è il primo pacco opening di FIFA 14 non volendo però l'abbiamo fatto e quindi andiamo a vedere un po' cosa abbiamo trovato di giocatori più che altro sono bronzi, c'è qualche contratto e due, tre giocatori oro tra cui uno del Catania, non so chi è e uno francese argento allora abbiamo Camis a 78 di velocità poi abbiamo, vediamoli un po', Kudla portiere le carte sono anche un po' differenti rispetto a quelle del FIFA 13 sono, sì, diverse anche come proprio come simbolo di carta è un po' più diversa le altre Robertson, questo sembra che abbia visto un fantasma tipo, ma che cazzo e la, sai, ecco, la faccia di Robertson è stata quella la mia quando ho aperto e mi è apparso questa cosa vabbè, abbiamo anche non voglio vedere l'Isomier e le libertà d'oro lo stadio l'Isomier la divisa della Sharp von McDowen De Plus Noboa oh, lui praticamente è un amante del set è un 76 con 73 di velocità 70 tiro 79 di passaggio 77 di dribbling 72 di difesa 72 di testa wow poi, ah, è bellucci pallone power della Puma d'Italia ah, quello della nazionale italiana buono bellucci l'inferitore centrale del Catania non male ci sono più forti l'Ustenberg grandissimo McGullock o McGallock Lee Jae-hon non c'è un coreano un sud coreano che non abbia almeno il secondo o il terzo nome De Quar detto anche il fregatore di dove è? eccolo il fregatore di Parigi sud poi abbiamo Rex Eppi Rex Eppi dovete sapere che è stato un DJ in dei famosi nightclub svedesi prima di essere intravisto da una cubista mentre gli veniva lanciata una bottiglia e lui l'ha spizzata con la testa infatti è un Chen è un Chen poi abbiamo Robert ho una voglia di vivere Robert fa il calciatore non so in che squadra fammi vedere se si può vedere dai non mi fa vedere la squadra però non la riconosco poi abbiamo la divisa del Daegu grande squadra un altro giocatore ah no è Signor Kenny Air Treaty League contratti 45 abbiamo Khalifa è fratello di Califano buono ha 74 di dribbling Marco Navas lui lavora al porto ovviamente abbiamo lo stemma dello Shelburne chi è che non vorrebbe avere lo stemma dello Shelburne Rudniki poi abbiamo Lowe detto anche basso Juan non il Juan Crowley un po' di contratti fitness eccetera eccetera proseguiamo quindi vediamo un po' cosa succede io però voglio sapere un regalo per te Sdrubentus abbiamo notato che stai giocando a FIFA Ultimate da dicembre 2011 come ringraziamento ti abbiamo inviato un omaggio nella sezione dei miei pacchetti del negozio perfetto abbiamo anche un altro pack opening da fare praticamente da FIFA 11 qui dice che io ci sto giocando ma i miei crediti dove sono andati a finire c'avevo più di 20.000 crediti che fino hanno fatto scusa il mio club oggetti club c'è ho perso tutto io ho perso qui ci sono i pacchetti in promozione ma fammi vedere la rosa dammi la rosa attiva me l'ha fatta lui ma io voglio la mia la mia vecchia Sdrubentus c'avevo più di 20.000 crediti e 50 FIFA Points dove sono andati a finire non ho capito ma vabbè allora io di solito giocavo sempre con il 4-4-2 perché è quello che mi trovavo meglio allora questo è un esterno sinistro di stare di qua esterno destro ci siamo terzino destro allora vediamo un po' un cenne sicuramente farete meglio di lo so che non stanno lì però anzi questo va di qua Califa invece va di qua anche se tanto non ci gioco perché non ho FIFA è 14 però vabbè almeno una formazione un po' più alverso sicuramente faranno meglio di quell'altri due e poi sarebbero centro avanti sì ma il problema è che infatti non ho capito perché lo messi a centro campo perché forse ho visto Chen e pensavo centro campo invece sarebbe centro avanti e questo è un centrocampista difensivo centrale allora mettiamolo di sotto quello è turco c'è qualcun altro che non è turco dove c'è in Francia c'è un attaccante francese sì c'è Robert ma vabbè dovrebbe giocare nel Marsiglia lui non fa penso punta intesa sì ecco leggera non mai esterno destro terzi andiamo un po' difensori centrali abbiamo De Laquen famosissimo quello di prima poi abbiamo centrocampista difensivo centrale a questo punto io farei a parte che già metterei questo qua farei un ibrido francese questo viene fuori un ibrido francese orribile credo che non ho altri giocatori andiamo un po' cerca nessun risultato peccato vabbè FIFA ci ha inculato praticamente 20.000 passaccrediti i giocatori che non avevo venduto del quali De Santi Sogbonna mi sembra anche i Barbo e 50 FIFA Points che nessuno certo che voglio salvare andiamo ad aprire allora pacchetto solo giocatori pacchetto solo giocatori e un pacchetto solo giocatori andiamo ad aprire questi tre pacchetti giocatori allora bentornati in FIFA Ultimate Team questo pacchetto inclui 12 giocatori 4 oro 4 argente e 4 di bronze di cui almeno uno raro vediamo un po' pacchopening della Sdroventus oh il live Maxwell attenzione altro giocatore francese che gioca nel Paris Saint Germain abbiamo Fleming Stoker detto anche Stoccarzo Scaffer ragazzi grandissimo ha 42.000 anni Chavez oh c'ha 85 argento raro questo lo potrei rivendere Chapman Onua Maxwell buono Maxwell buono Al-Kahir Nicolos lui ha il monocidio sembra uno di quei supereroi infatti ha anche la divisa dei Power Rangers eccolo I'm Kyung Yoon cioè io sono Kyung Yoon ragazzi i coreani sono avanti Petrich grande andiamo Petrich proseguiamo andiamo con un altro pack opening assegna tutto automaticamente vendi tutto invia tutti oggetti massi al tuo club perfetto no ci sono vai nel negozio apriamo di nuovo un altro pacchetto sempre 12 giocatori 4 oro 4 argento 4 bronzi di cui uno raro vediamo un po' Jao Pereira mi sembra che Jao Pereira abbia 4 stelle abilità che è questo? Suarez Luis Suarez 81 di velocità 82 di dribling poi abbiamo ragazzi quando vedo un coreano Langtree lui lo usano come trivellatore per fare per esempio quello che mette la bandierina non è quello del calcio d'angolo uno che lavora allo stile chiamano Langtree direttamente Kim Sung Joon qui sono giunto poi Torres Nilo 81 di velocità Riccardo Batista è il fratello del Batista Batista Pavic la bandiera della Sved è della Svezia aspetta Svezia Finlandia Norvegia dovrebbe essere aspettate che controllo la bandiera della Svezia dovrebbe essere all'incontrario vediamo un po' no Norvegia Norvegia vediamo un po' che bandiera c'ha no la non è della Norvegia mi è boh vediamo un po' Norvegia proviamo a scrivere Svezia Svezia mi sembra che era gialla con il coso no è della Svezia ok mi era preso il lapsus ah un giocatore australiano Lia e lui è felice poi abbiamo Michele San Jose quindi Michele San Jose è un virus aloisio un altro giocatore argento raro poi abbiamo Bonecchi un ragazzo andava a scuola con me si chiamava Bonecchi di cognome Diagne che che i fiorentini amici di Firenze o comunque sia i toscani sanno che Diane è anche una bestemmia usata ho già per Eira che è una foce da una foce cioè una faccia da bronzo di riace mi sembra che venga usato su Ultimate Team su FIFA 14 come tipo giocatore che è molto bravo un terzino destro che ha 4 stelle abilità mi pare ok quindi torniamo al negozio apriamo l'ultimo pacchetto disponibile vediamo un po' io chiudo gli occhi non voglio vedere cosa c'è che è Harry Harry si mio dio mio dio ho beccato Harry ho beccato Titi Harry mamma io lo rivendo subito ma io qui ci inizio una serie qui Dio Bono Harry ragazzi stiamo parlando di Titi Harry ha giocato nella Juventus Titi Harry dopo Ancelotti ha detto che era un giocatore scarso e l'ha rivenduto però ragazzi abbiamo Titi Harry e nessun giocatore coreano mamma mia abbiamo Belek guardatelo Titi Harry bellissimo poi abbiamo Pavoletti chi è che non conosce Pavoletti ragazzi saluto Pavoletti se ci sta guardando abbiamo Linsen abbiamo Ebert Ebert ballerina facchinetti svizzero non novi Haith Ben Idir non vi sbagliate ma è francese poi abbiamo la Sergio che fa i peggio rumori abbiamo Rudy perché non Rudy è già usato abbiamo Formella Al Coin e Charles però ragazzi abbiamo Titi Harry io quasi quasi ci faccio una serie tipo Road tu non so nemmeno cosa io però sarebbe divertente abbiamo Titi Harry allora andiamo alle nostre rose a questo punto le rose del del giardino e io sarei anche per questo come si fa a sostituirlo con gente generazioni qui aggiungi con due volte clic cerca allora innanzitutto mettiamo Maxwell ok Maxwell che è un terzino sinistro verrà messo al posto di lui il giocatore del Catania che viene messo al centro no a parte che Bellucci non sarebbe male come difensore centrale il problema è che non farà molto intesa allora facciamo così questo qua anzi facciamo così questo qui eh della DQR verrà spostato qua e difensore centrale ok difensore centrale togliamo questo terzino destro scambia con il mio club vediamo se ho un terzino destro ecco lo gioavo per Eira ok vediamo quali altri difensori centrali ho scambia con il mio club club vediamo un po' Michael Santos Diagne e Onua beh 82 76 sono tutti da parte Onua io opterei per Diagne però Michael Santos mi fa intesa con quest'altro vediamo un po' di difensori centrali poi potrei mettere scambia con club cerca potrei fare anche così per fare più intesa tra loro due togliere il portiere scambia con un club scambia con il club vediamo un po' c'è il portiere tedesco questo qua non sarebbe male però c'è Rudy ragazzi qui ho un tritello di portieri mi servirebbe quello che giocava il difensore in Inghilterra eccolo qua Onua che non so in che squadra giochi penso diamo un po' Onua non mi fa vedere in che squadra gioca o altro mi sembra nel QPR forse penso di si ok vediamo un po' di centrocampisti centrali dopo il pack opening chi possiamo avere all ah questo lo stemma di questa squadra qua che mi sembra che è della serie B inglese ce l'avevo ce l'avevo anche su uno dei primi alti metti team che feci tanto tempo fa Stoker ragazzi Stoker come velocista scambia dai dai ho fatto una formazione niente male Chavez non sarebbe male perchè ha è un difensore 85 di velocità però l'altro chi era che mi dava la disponibilità sarebbe Ebert Ebert non sarebbe male perchè ha tanta di velocità 83 di passaggio e tanta di dribbling quindi sarebbe più veloce in fascia tecnicamente io preferisco giocatori veloci però mi fanno intesa un altro centrocampista centrale chi potrei averci vediamo un po' siamo sempre gli stessi chi no noi coreani non ce li voglio togliamo questo Shen che è un ceppo scambia con il mio club vediamo un po' Charles Aloisio potrei fare praticamente un attacco un attacco brasiliano scambia con il mio club però c'è TTR dall'altra parte vedete così farebbe una intera 70 su 72 l'unica è che non ci avrei vediamo un po' con TTR cosa cambia vediamo cerca e beh un'altra cosa scambia con club cerca con califa non sarebbero malvagi però non fanno punta intesa però dai non è male come Ultimate Team non ce la stiamo caviando male rimuovi dalla rosa esatto e quindi io a questo punto cosa faccio ora questi trapanelli me li tengo tutti e vedo di provare a fare un po' di compravendita vediamo un po' tanto c'è tempo ma anche se il video viene un po' più lungo che se ne frega allora tanto dato che io non ci gioco proviamo un po' a vendere Maxwell vuoi da no no annulla allora rimuovi da invia la lista trasferimenti vediamo un po' e proviamo a inviare la lista trasferimenti anche TTRD e questo qua all'esterno destro quelli un po' più appetibili andiamo su quindi negozio trasferimenti lista trasferimenti si vogliamo salvarla Ebert lo potremmo rivendere sui 500 farei un'asta a partire dai 300 e 450 ad un'ora inserisci nell'elenco per TTRD io partirei con un 5000 saranno anche un po' tanti ma è TTRD è francese quindi è una mezza leggenda facciamo così partiamo da 2005 il prezzo iniziale anzi da 2000 il prezzo iniziale e 2005 il no no facciamo un 3500 il prezzo compra 3000 il prezzo compra ora e Maxwell lo stesso è un buon difensore io non l'ho mai usato insomma con FIFA 14 inserisci nell'elenco perfetto io quindi ho buttato questi tre nella mischia se mi vogliono comprare bene proverò a fare qualche boh qualche squadra della settimana Robert Borcavalero e Bale proverò a fare qualche si dai pacco opening vediamo un po' di compravendite tanto per buttarci su una nuova serie che sinceramente ha preso piede questa serie e nemmeno io sapevo come quindi io vi auguro una buona giornata spero che vi sia piaciuta come primissimo episodio di FIFA 14 sdroventus e voglio cambiare quell'emblema perché mi fa schifo io voglio quello della Juve votate commentate scrivetevi un mi piace se vi è piaciuta la mia reazione al found di TT Henry votate commentate iscrivetevi ciao ciao ragazzi